Autonomia istituzionale e regionalismo differenziato. Parleremo anche dell'anniversario della istituzione della provincia di Sernia. Buonasera amiche ed amici di Moby Dick, vi presento subito gli ospiti. Michele Iorio, già Presidente della Regione, consigliere regionale di centrodestra. Buonasera Presidente. Buonasera a voi. A seguire il professore docente ordinario all'Unimol di diritto amministrativo, il professore Alessandro Cioffi. Buonasera Professore. Buonasera. Un ex Presidente conosciuto da tutta la Regione, Presidente della Regione Molise ovviamente, Enrico Santoro. Buonasera Presidente e grazie per essere intervenuto. Un Presidente sempre verde come potete osservare. A seguire il Vice Presidente del Consiglio regionale Gianluca Cefaratti di Orgoglio Molise. Buonasera Cefaratti. Buonasera e te rispettate. Ci ascoltiamo come sempre la copertina realizzata da Anna Maria Di Matteo. Nel 2001 la riforma del titolo quinto della Costituzione. Una riforma riferita alla parte dedicata a comuni, province e regioni è attuata attraverso la riscrittura di molti articoli e l'introduzione di nuove norme che hanno determinato un sostanziale ampliamento dei compiti e delle funzioni attribuite a quei soggetti. In particolare, secondo il nuovo articolo 114, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. I punti più importanti della riforma costituzionale riguardano la funzione legislativa attribuita alle regioni e che risulta fortemente ampliata, le funzioni amministrative, organizzative e finanziarie anch'esse ampliate. Introdotto anche il cosiddetto federalismo fiscale, inoltre risultano redistribuiti anche i rapporti fra Stato e enti locali, con un minore controllo dello Stato sulle regioni. Un tema che è di recente tornato di strettissima attualità, grazie alle iniziative intraprese dalle regioni Lombardia-Veneto, che in seguito ai referendum consultivi del 2017, hanno chiesto poteri diversi rispetto alle altre regioni a statuto ordinario, in merito alle materie sulle quali lo Stato e le regioni hanno competenza legislativa concorrente, come il fisco e la fiscalità locale, la sanità, le infrastrutture e trasporti, l'istruzione e i beni culturali. All'iniziativa di Veneto e Lombardia successivamente si è aggiunta anche quella dell'Emilia-Romagna, tre regioni che il 28 febbraio del 2018 hanno sottoscritto con il governo Gentiloni tre accordi preliminari per una possibile autonomia che prende il nome di regionalismo differenziato. Un'iniziativa che però ha fatto scattare la levata di scudi di piccole regioni come il Molise, che vedono compromesso in questo modo il principio della solidarietà e della sussidiarietà tra le regioni stesse, aumentando così il divario già esistente tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Realtà che hanno una limitata capacità fiscale, che senza la solidarietà interregionale non sarebbero in grado di essere autonome. Da qui l'avvio di una concertazione tra le regioni del Sud per una strategia comune, per individuare uno strumento univoco per tutte le regioni che garantisca dignità e uguaglianza di diritti a tutti i cittadini al di là del luogo in cui essi vivono. Grazie Anna Maria Di Matteo. Dobbiamo solo aggiungere a proposito di quello che diceva la Di Matteo che Stefano Caldoro, l'ex Presidente della Campania, ha proposto una unità di azione sostanzialmente di tutte le regioni del Sud per frenare il regionalismo differenziato o per averne altrettanto regionalismo differenziato che, come sapete tutti, è un tema di attualità del Governo nazionale, spinto soprattutto dalla Lega con qualche frenata dei 5 Stelle e ne parleremo più avanti. Però io voglio partire subito da un anniversario, un anniversario importante, almeno lo è stato fino a qualche anno fa, oggi lo è un po' di meno, l'anniversario riguarda la nascita, l'istituzione della provincia di Senni e il 3 marzo di 49 anni fa, quindi dopo domani c'è il 49esimo anniversario, nasceva la provincia di Senni, la provincia che oggi, insieme a tutte le altre province depotenziate, sostanzialmente nelle competenze no, ma nei finanziamenti sì, e che stanno vivendo un pessimo periodo, la provincia di Senni in particolare, perché è, come dire, aggredita da una crisi davvero forte. Presidente Iorio, lei era giovanotto quando è nata la provincia di Senni? Beh sì, sì, devo dire sì, con grande ramarico, insomma, ricordo gli anni della mia giovinezza e ricordo anche i moti di entusiasmo che ci furono in quel momento, perché il risultato fu dovuto anche a un grande movimento popolare di adesione a questa ipotesi che fu davvero importante. Ci furono anche dei personaggi politici dell'epoca che spinsero molto, che capeggiarano questa ribellione, più che ribellione, questa volontà popolare di avere istituita la provincia in quel territorio. Ah certo, insomma, abbiamo qui Enrico che fu il portabandiera di una iniziativa che naturalmente nasceva nelle aule parlamentari, ma veniva sostenuta da politici capaci che hanno avuto anche la testardaggine per raggiungere questo obiettivo, che ogni volta sembrava raggiunto e poi veniva disperso nelle attività parlamentari con gli scioglimenti delle Camere. E quindi la volontà ferrea di ottenere un risultato fu premiata e credo che la politica all'epoca ebbe un ruolo fondamentale. Poi sentiremo anche il parere del professore Cioffi, però io passerei subito a Enrico Santoro, uno dei protagonisti di questa vittoria istituzionale, possiamo dire così. Che ricordi ha di quei momenti? Beh, insomma, più che ricordi sono vive in me proprio perché è stata parte della mia vita, della mia giovinezza direi, quella per l'istituzione della provincia di Segna. Perché come ha detto Michele, in effetti l'iniziativa di istituire una seconda provincia nel Molise risale ai tempi della commissione della commissione del 75 che aveva il compito dell'organizzazione delle regioni in particolar modo. Già da allora si è parlato del Molise, ne parleremo certamente dopo, e della necessità di una regione autonoma che non poteva, già si pensava, essere una regione individuata come territorio, come lo stesso territorio della provincia. Poi ci sono state, come diceva Michele, diverse iniziative che non hanno sortito la conclusione favorevole e positiva per vari motivi. Io fui eletto sindaco nel 64 ed immediatamente, subito dopo, iniziò, direi, il primo compito, il primo impegno fu proprio quello di riprendere il discorso dell'istituzione della provincia. Parlare adesso di tutto quello che si è fatto come preparazione prima di presentare la stessa proposta di legge sarebbe troppo lungo e sottrarremo tempo all'argomento per il quale voi questa sera ci avete chiamato e che è molto attuale ed importante. Restiamo alla provincia per dirvi che nel giro di poco tempo fu però presentata una proposta di legge e direi che l'attività del Comune di Senia ma del sindaco fu quella di dedicarsi alla istituzione della provincia di Senia. Tutti i partiti allora lo vollero? Sì, i partiti erano tutti d'accordo, non c'era l'accordo di Campobasso, non c'era l'accordo di Venafro e di qualche altro comune. Quindi ci volle veramente una grande capacità, un grande impegno per ottenere anzitutto una richiesta che è formulata in modo tale che dava a livello parlamentare la sensazione, la certezza che l'intero Molise e quindi i comuni interessati erano tutti d'accordo alla istituzione della provincia. Questo era un fatto che non si... Ma citiamo qualche personaggio dell'epoca, oltre a lei, oltre alla volontà popolare, chi ha lavorato tanto? È il Comune, in effetti, tutta l'amministrazione comunale nel suo insieme e la deputazione parlamentare molisana ritrovò anch'essa l'unità che era formata da Sedati, La Penna, Vecchiarelli, San Martino, questi erano, l'altro c'erano... Forse c'era qualcuno del PC pure. Tedeschi. 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 La deputazione parlamentare, tant'è che la proposta di legge ho pretesa che la presentassero i molisani e non come era stato prima presentata da altri deputati di altre zone. E tutti quanti, ad eccezione di San Martino che era sottosegretario, non poté firmare, ma gli altri hanno firmato... Ah no, c'era Palmiotti. Palmiotti, socialdemocratico. Socialdemocratico. Esatto. La proposta di legge, il suo iter, il fatto positivo fu quello che io, insomma, mi ero oramai introdotto talmente bene nei meandri del Parlamento, della Camera prima e del Senato dopo, per cui riuscì attraverso i rapporti con questi parlamentari e con Di Lisa, Nicola Di Lisa, prima la nomina dei singoli relatori, quindi poi l'affrontare di volta in volta la discussione nelle varie commissioni. Praticamente il Comune di Sernia aveva la forza tale da esprimere, da portare, da avere con i contatti continui e costanti rapporti con i parlamentari interessati di volta in volta alle varie commissioni. E quindi la tappa fu abbastanza lunga, ci volerlo due anni per avere tutti i pareri delle commissioni, fino a quando la Camera fu approvata e quindi il 18 dicembre del 69 e fu trasferita al Senato. Al Senato avemmo la fortuna, o inutile dire qua, adesso lo faremo a giorni, dire chi furono questi personaggi perché credo sottraerei il tempo al motivo del vostro incontro. Al Senato avemmo la grande occasione di avere il Presidente della Commissione Affari Costituzionale, il mio professore di diritto costituzionale, Alfonso Tesauro, del quale ero stato anche assistente. Ma lui era talmente convinto di questa realtà e la commissione che chiese in un primo momento la sede legislativa dopo poco entrò nel merito e fu approvata, il 3 marzo fu approvata. Ma io direi che il fatto importante, cerco di chiudere subito, il fatto importante fu la presenza di Moro. In quell'occasione, guardate, c'è stato un fatto sul quale riflettevo nei giorni scorsi, di tre presidenti, uno più valido degli altri nei confronti e più convinti di questa realtà che noi avevamo presentato. Allora, Moro, che fu ospite di Sernia, con il quale io avevo avuto la possibilità di incontrarmi un paio di volte, si convince, si convince, ma crede che non aveva bisogno nel mio... Moro che ruolo svolgeva? Moro era presidente del Consiglio che, essendo stata approvata la legge delle regioni e poiché l'anno successivo, nel 70, bisognava fare le prime elezioni regionali, diventava ancora più impellente, più importante per il Molise l'istituto della seconda provincia, altrimenti le due realtà, la regione Molise sarebbe trovata con l'istituzione regione, l'istituzione provincia, che in un'unica... Certo. ...con un'unica formazione che corrispondevano. Io su questo insistetti molto nel consiglio, nel discorso che fece a Moro ai Segna, nei termini certamente molto più precisi di quanto lo sto facendo in questo momento. Moro era convintissimo, anche se in realtà non si esprimeva nella forma almeno nella forma che noi avremmo voluto, ma convinto della cosa accettò l'invito ai Segna. Quella sua venuta ai Segna fu il segno che la provincia oramai era un fatto acquisito perché dava il sugillo di una presenza significativa come quella di Moro che era... Poi vedremo la differenza tra la provincia di allora e la provincia di oggi. Ecco, se permetti vorrei dire solo una cosa prima così che oramai per i giorni che stiamo vivendo dei quali discuteremo oramai non dobbiamo neanche più parlare di province credo che siamo oramai in una condizione in cui ben altri momenti ci aspettano. Lo affronteremo subito dopo anche perché avremo in collegamento telefonico il presidente attuale della provincia di Serna Lorenzo Coia professore Cioffi io a lei vorrei chiedere questo in generale negli ultimi anni prima di depotenziale le province sono state istituite diverse nuove province in Italia secondo lei la provincia in quanto tale ha un ruolo tra i vari livelli istituzionali ovvero comuni realtà metropolitane la provincia stessa regioni e stato ha motivo di esistere? Nel tessuto costituzionale la provincia è un ente importante perché è un anello intermedio ormai le regioni hanno dei poteri di indirizzo politico di fare leggi molto alto quindi nella scala che il costituente ha ideato l'idea della sussidiarietà ebbene la provincia rispetto ai comuni e rispetto alla regione ha un ruolo decisamente importante direi di collegamento di intelligente coordinamento perché vede bene il territorio anche perché la provincia è un ente essenzialmente di amministrazione attiva insieme ai comuni quindi io credo che la provincia abbia tuttora un ruolo non dimentichiamo che ha una garanzia costituzionale la provincia non si elimina con un colpo di penna però è diventato ente di secondo livello sostanzialmente gli elettori non eleggono più né il presidente né il consiglio provinciale e questo è stato depotenziato in qualche modo questa istituzione ma questo è un riflesso della sua natura perché vedete la regione è sempre al crocevia politica o amministrazione la provincia deve amministrare quindi i poteri che ha non sono tanto di indirizzo politico sono poteri sul territorio in ausilio dei comuni a coordinare a mettere insieme quindi è un po' un riflesso della sua natura poi parleremo meglio di questa autonomia differenziata però io credo che oggi la provincia oggi in una prospettiva futura abbia una funzione importante perché i comuni da soli non ce la fanno oggi specialmente infatti è così ed è vero Gianluca Cefaratti lei è stato amministratore presidente del consiglio provinciale di campo basso quando anzi è stato eletto dal popolo ovviamente non come presidente del consiglio ma come consigliere provinciale oggi le province non sono più quelle di una volta ecco secondo lei bisogna tornare indietro da quello che hanno deciso i governi precedenti sul depotenziamento di fatto delle province ma qui c'è Enrico Santoro che è stato promotore della provincia di Sernia io invece ho assistito alla fase finale quella fase che si è conclusa poi con la legge del Rio che mi permetto di definire in qualche maniera un aborto un aborto politico istituzionale amministrativo non so e ricordo perché io fui eletto consigliere provinciale nel 2011 tutto il travaglio che ci fu per la legge travaglio che in qualche maniera addirittura passò attraverso un'ipotetica chiusura di alcune province tra cui la provincia di Sernia per cui tra virgolette fu scongiurato la chiusura della provincia di Sernia e di altre province in Italia ma fu probabilmente peggio la legge del Rio la legge della 56 del 2014 che di fatto depotenziò le province in un processo mai governato dal livello centrale e che ha scombinato davvero il territorio non solo del meridione in tutta Italia probabilmente qualche errore c'era stato perché io ricordo Giovanni tu dicevi prima insomma chiedevi se il presidente Iorio era ragazzino io ero proprio bambino quando fu istituita la provincia di Sernia e mi ricordo quando studiavo a scuola che la regione Molise e la provincia di Sernia venivano definite la regione e la provincia più giovane d'Italia in qualche maniera ma poi a ridosso degli anni 2000 dobbiamo ricordare che ci fu un momento in cui ci fu una proliferazione forse esagerata delle province ricordo le province della Sardegna e passarono da 4 a 8 ma anche in Alt'Italia eh sì ma sfido veramente chiunque a ricordare i nomi di queste 8 province della Sardegna forse ricordiamo le 4 province storiche quelle di Cagliari Sassari Oristano e Nuoro ma ricordo Medio Campidano Tempio Pausani insomma ricordo perché ho vissuto più che altro l'esperienza amministrativa forse quello fu un errore ma cancellare di fatto con un colpo di spugno le province con tutti i problemi annessi e connessi ricordate anche voi i problemi anche lì nati per i centri per l'impiego che ci trasciniamo ancora avanti oggi in qualche maniera i problemi dei trasferimenti del personale i problemi del trasferimento delle funzioni di fatto risparmio non ce n'è stato e probabilmente abbiamo solamente impoverito un territorio abbiamo impoverito una classe anche di amministratori a mio giudizio valida e probabilmente oggi spero insomma che ci sia anche a livello parlamentare soprattutto la Lega bisogna dire che sta riprendendo questo discorso probabilmente si tornerà non più a enti di secondo livello ma pare che insomma in prospettiva si torni a enti in cui il popolo decide i propri amministratori questo ce lo dirà tra poco il Presidente Coia che hanno incontrato il Ministro agli affari regionali Primiani questo governo allora visti gli errori dei governi precedenti su questo tema della provincia è possibile che riveda la decisione sul mantenimento delle province e sul loro potenziamento? Sicuramente è un discorso da riaprire innanzitutto volevo dire che io 49 anni fa non ero ancora nato sei giovane beato lei quindi apprezzo e mi piace ascoltare i racconti dell'epoca sicuramente venendo ai giorni nostri io sono d'accordo quando si dice che la legge del Rio sia stata sicuramente troppo affrettata troppo affrettata nel eliminare nel tagliare le risorse alle province pur mantenendogli le competenze quindi è necessario sicuramente riaprire un discorso sul ruolo delle province anche perché hanno appunto un'autonomia costituzionale e una legittimità costituzionale e soprattutto hanno una grande importanza sul territorio paradossalmente io li ritengo anche più importanti delle regioni attuali piuttosto aprirei un discorso sul ruolo delle regioni attuali magari andando verso le macro regioni e rivalorizzando appunto le province sicuramente il Movimento 5 Stelle si farà portavoce di un discorso un dibattito all'interno del Parlamento per ridare il giusto ruolo che meritano alle province il giusto ruolo però al giusto ruolo deve rispondere a un finanziamento adeguato e il bilancio dello Stato mi pare che in questo momento insomma non goda proprio ottima salute è un discorso ampio soprattutto perché quando si affrontano dei principi costituzionali io credo che il dibattito debba essere ampio profondo trasparente e coinvolgente perché si sta intervenendo sulla carta fondamentale dello Stato quindi deve essere un processo lungo e appunto coinvolgente non può essere effettuato nel giro di pochi mesi e ad opera di poche persone peraltro della riforma del Rio è stata molto antipatica non gradita dai cittadini agli elettori le elezioni di secondo livello cioè gli elettori non vanno più a scegliere i propri amministratori questa non è stata affatto gradita allora abbiamo al telefono abbiamo scomodato il presidente Lorenzo Coia presidente della provincia di Sernia buonasera presidente buonasera Giovanni ecco lei era nato immagino sì quando venne istituita la provincia di Sernia e cosa ricorda? avevo 15 anni avevo 15 anni per la verità non era ancora in Molise stavo fuori penso in quel periodo stavo a Padova però l'orgoglio come emigrato al nord di avere di far parte di una nuova provincia quindi eravamo non solo morisani ma erano diventati anche i Sernini lo ricordo con piacere ecco la legge del Rio la riforma del Rio in qualche modo ha penalizzato le province non in qualche modo le ha penalizzate lei ha avuto recentemente un incontro con il ministro agli affari regionali c'è l'impegno c'è la volontà di questo governo di ridare un ruolo importante alle province? ma dopo il referendum costituzionale che è stato battuto ma era chiaro che bisognava ridare dignità costituzionale alle province si è perso un po' di tempo sicuramente ma questo governo non ci sembra almeno dalle battute iniziali io ho partecipato a due incontri uno sulle poste a Roma e il ministro Salvini insieme al ministro un altro ministro insomma del governo attuale avevano detto che sicuramente andremo verso la riforma delle province siamo stati recentemente all'assemblea nazionale dell'UPI per l'elezione del nuovo presidente il presidente della provincia di Ravenna che è il nuovo presidente nazionale UPI e lì sono intervenuti sia il sottosegretario sia il ministro Erika Stefani degli affari regionali c'è stato un impegno solenne di approvare entro la fine dell'anno la riforma delle province da enti di area vasta a province quindi ritare anche la dignità costituzionale e l'autorevolezza al presidente con l'elezione diretta dei cittadini su questo però devo registrare due posizioni diverse il 26 e 27 di febbraio proprio l'altro ieri insomma ci sono stati i documenti sia di UPI che di ANCI l'ANCI ritiene ancora che debba essere affidata alla provincia al sindaco del comune capoluogo con un ruolo importante dell'assemblea dei sindaci che oggi sono organo costituzionale delle province con un'aggiunta esecutiva penso anche questa eletta per quanto riguarda invece l'UPI noi abbiamo richiesto al di là dell'elezione diretta del presidente anche un rinnovo delle funzioni quindi politiche sociali politiche attive del lavoro cultura ricerca territorio salute scuola formazione professionale pianificazione strategica io per la verità ho sentito prima gli interventi che mi hanno preceduto e devo dire la verità insomma il ruolo della provincia di per sé esiste ma non come anello di congiunzione tra il comune e la regione la regione c'è il suo ruolo che è di programmazione e di legiferazione i comuni piccoli soprattutto in un realtà come la nostra voglio ricordare che la provincia di Segna con 85 mila abitanti e 52 comuni è la più piccola in assoluto tra le province a statuto ordinario ci frega solo l'Ogliazza che c'è 22 comuni e 57 mila abitanti ma è una regione a statuto speciale ma nonostante questo la provincia di Segna ha un suo ruolo che è diverso da quello dei comuni perché ci sono le unioni dei comuni che possono svolgere un ruolo di servizi associati ma proprio svolge quel ruolo di funzioni di aria vasta le dico una noi abbiamo gestito adesso il morto for pit cioè la gestione della raccolta differenziata per 30 comuni dalla provincia le CUC regionali molto probabilmente e su questo è stata una battaglia anche nell'ultima finanziaria avevamo chiesto che venissero istituite a livello provinciale i comuni dovevano per forza di cose associarsi alla centrale unica di committenza regionale potevamo svolgere un ruolo di supplenza ai comuni e un altro ruolo ancora io l'ho sostenuto anch'io in UPI nella commissione sulla riforma costituzionale istituzionale che era quello di catalizzatore dell'attivazione dei processi di unione dei comuni perché qui c'è un processo c'è un discorso ineludibile i comuni piccoli non hanno più ragione di esistere l'associazionismo obbligatorio è fallito allora si sta incentivando e questo è il pacchetto che oggi in conferenza unificata sta per essere partorito nella fine del mese di marzo il governo ci ha detto ci fate il pacchetto ce lo date lo portiamo in Parlamento e cerchiamo di farlo provare che rivede l'affetto complessivo dell'autonomia locale a partire dall'unione dei comuni un ruolo nuovo della provincia e questo discorso del regionalismo differenziato che per la verità ci lascia molto perplessi ma semplicemente perché l'ha detto lei direttore il regionalismo differenziato ci porterà sicuramente a una riduzione delle risorse e quindi quella perequazione per le regioni piccole per i comuni piccoli per le realtà piccole come noi sicuramente sarà anche una perdita Presidente un'ultima domanda prevedete qualche manifestazione in ricordo dell'anniversario della nascita della provincia il 3 marzo? ma è chiaro che l'anno prossimo è il cinquantenario insomma io dico spero l'anno prossimo di festeggiare spero speriamo insomma se sarò ancora amministratore o sindaco o comunque ancora in carica ma la mia scadenza a novembre dovremmo arrivare forse ai primi ai primi di gennaio all'elezione del nuovo Presidente se non intervengono elementi legislativi nuovi all'interno dell'anno però una cosa volevo fare insomma un documento che probabilmente cercherò di stendere in queste ore è un ricordo al Presidente Pellegrino ho avuto già un'interlocuzione con il Ministero dei Beni Culturali per fare la proposta di intitolazione del Museo Paleolitico al compianto Mimo Pellegrino questo è un segno di rispetto e di diciamo di riconoscimento per il lavoro che ha svolto uno dei grandi Presidenti della provincia benissimo benissimo grazie Presidente Coia grazie lo ricordiamo anche noi Mimo Pellegrino Presidente della provincia per diversi anni è venuto a mancare poche settimane fa Presidente Orio adesso andiamo un po' nel merito della questione che riguarda la situazione della provincia di Sernia rispetto agli anni precedenti la provincia di Sernia appare una provincia povera quasi un deserto attività produttive che non esistono più però c'è una contraddizione perché poi i risparmi degli Sernini aumentano dato riportato da solo 24 ore che sta succedendo nella provincia di Sernia? C'è una inversione di tendenza notevole rispetto a una crescita che in qualche modo fino a qualche anno fa c'era pure stata insomma anche dal punto di vista imprenditoriale c'era un'attività molto floride molto importante anche di livello nazionale quindi la crisi economica per conseguenza della grande crisi industriale della provincia di Sernia non solo della città non solo della ITR ma di tante altre aziende credo che sia stata la causa principale e poi c'è naturalmente il dato della dimensione anche qui gioca la dimensione in senso negativo non solo noi molise come siamo piccoli e quindi non contiamo c'è qualche problema io credo che l'analisi vada fatta anzi promuoverò anche un'iniziativa uno studio specifico su questo fenomeno e anche sul problema della desertificazione dei piccoli comuni perché questa è un'altra questione che la regione Molise dovrebbe affrontare quanto prima e cercare di trovare le soluzioni necessarie io ritengo che comunque al di là adesso degli aspetti macroeconomici della questione imprenditoriale io credo che il problema del riassetto delle strutture di governo pubblico del territorio gli enti pubblici sia importante sia importante come troppo spesso in Italia si è in qualche modo denigrata la presenza delle amministrazioni abbiamo vissuto un periodo politico molto particolare in cui sembrava che bisognasse eliminare tutto i piccoli comuni le piccole province la razionalizzazione spending insomma poi alla fine magari non serve più nulla magari si farà solo un governo nazionale e al governo ci starà un solo capo e avremo risolto l'evoluzione democratica avremo abolito la democrazia in quel caso io credo che invece il ruolo delle realtà locali è fondamentale va conservato fino a quando ci sono le possibilità di poterlo fare basta vedere l'esperienza di paesi anche più moderni di noi almeno negli aspetti di vari settori sia economici che tecnologici basta andare visitare la Scozia o l'Inghilterra per vedere come piccoli comuni addirittura piccole comunità si amministrano autonomamente basta vedere la Francia io ho fatto un'esperienza da presidente nelle regioni francese dove c'è la produzione di limoges che è interna nel territorio francese dove hanno fatto delle ottime esperienze con delle comunità montane che avevano dei compiti specifici di mobilità delle persone ed erano organismi che funzionavano e che nessuno avrebbe mai pensato di eliminare come si fa in Italia eliminiamo questo facciamo quest'altro poi le conseguenze le paghiamo tutti voglio dire io credo molto nel ruolo dell'autonomia locale quindi la difesa delle realtà territoriali è una difesa anche dell'economia della zona una domanda poi ci fermiamo un attimo per la pubblicità Presidente lei rispetto alla povertà e alla crisi occupazionale ha annunciato una proposta di legge per dare qualche futuro a tutti quelli che hanno perso lavoro su questo però c'è stata soprattutto quelli che vengono dalle società partecipate della regione c'è l'ex strategy che ha lasciato in pezzo alla strada molte persone però rispetto a questo c'è stata una levata di scudi da parte dei suoi concittadini della provincia di Sennia perché non avrebbe tenuto conto della ex it r non è che premesso che con un'iniziativa di legge si devono affrontare regolamentazioni che la legge prevede per quanto attiene le partecipate la legge nazionale prevede un iter particolare di ricollocamento delle persone e quindi agganciandomi a quella ho presentato una proposta proprio in questi giorni spero che venga approvata rapidamente abbiamo affrontato una parte del problema perché la itr non era una partecipata la itr non era una partecipata ma c'è stato un coinvolgimento della regione qualche volta ecco anche per soddisfazione di informazione se ne può parlare in maniera articolata della storia dell'itr io sarei lieto di poter partecipare per raccontare come la itr non è una partecipata ma la itr ha avuto anche una partecipazione regionale nel passato e anche durante il mio governo che poteva trasformarsi in qualcosa di diverso in ogni caso il problema della itr è far funzionare la ripresa industriale e credo che su questo bisognerà lavorare alacremente nei prossimi mesi ripartiremo dal professor Cioffi ci fermiamo pubblicità seconda parte di Moby Dick affrontiamo il tema come lo ha ben descritto Anna Maria di Matteo nella copertina iniziale del regionalismo differenziato la modifica del titolo quinto della Costituzione avvenuta nel 2001 lo ricordava Anna Maria ha previsto questa possibilità e dopo 17-18 anni alcune regioni vogliono metterla in pratica in sostanza vogliono avere più autonomia su alcune materie in particolare la tutela dell'ambiente la tutela della salute quindi la sanità l'istruzione la tutela del lavoro e rapporti internazionali e con l'Unione Europea molte regioni ultimamente il governo Conte ha provato ad accelerare su questa materia su spinta della Liga ma il Movimento 5 Stelle come dicevo prima sta frenando ed è uno dei temi che mantengono come dire un po' viva la discussione all'interno dell'alleanza di governo allora professor Cioffi ci racconti un po' di questo regionalismo differenziato e cosa può comportare alle regioni del sud al Molise particolare immaginiamo per chi è a casa senza troppo tecnicismo un'orchestra l'orchestra c'è un direttore ci sono gli orchestrali semplici e c'è un primo violino ci può essere anche un solista il regionalismo differenziato è il 116 della Costituzione terzo comma prevede ulteriori e particolari forme di autonomia come si fa questo? si fa con una legge dello Stato non lo dimentichiamo su iniziativa della regione sentiti gli enti locali ecco l'orchestra in un certo modo parlano tutti è un coro quindi il punto è capire il limite fino a che punto ci si può spingere come se nell'orchestra a un certo punto il primo violino cominciasse a suonare molto forte rispetto agli altri però a legge ferrare dovrà essere lo Stato il Parlamento dopo gli accordi è una legge dello Stato che però recepisce nel contenuto un'intesa tra la regione e il governo sentiti gli enti locali quindi poi molto si gioca in quello che c'è scritto nell'intesa ovviamente nel quadro dei principi mettiamolo dentro i principi l'orchestra suona sempre la stessa musica in altre parole il primo principio è il principio di unità della Repubblica la Repubblica una indivisibile questo è il principio generale e poi il principio di solidarietà quindi prima del 116 che è nella seconda parte contano i principi istituzionali generali unità indivisibilità della Repubblica solidarietà quindi vuol dire che dentro la musica dell'orchestra comunque si suona sempre la stessa musica poi ci sono le variazioni quindi bisogna capire quanto è forte la variazione non deve compromettere l'armonia non deve compromettere la solidarietà di tutte le regioni verso le altre quindi per usare ancora un'altra metafora è come se il figlio più grande in famiglia se ne vuole andare in casa ma attenzione non può essere una secessione se esce fuori casa anzitutto deve essere abbastanza maturo e quindi chi paga l'autonomia mamma e papà lo Stato no attenzione ci vuole un'autosufficienza economica della regione che si spinge lontano con il regionalismo differenziato perché va ad afferrare materie l'abbiamo detto importanti l'istruzione i beni culturali e l'ambiente la salute la salute viene da un'idea di intesa perché istruzione e beni culturali e ambienti ambienti sono le classiche materie dello Stato esclusivamente dello Stato che l'autonomia differenziata la regione può prendere a sé può attrarre non deve toccare il microfono possibilmente con le mani no prego prego continui continui e quindi autonomia differenziata vuol dire che la regione entra in un abbraccia diventa quasi un potere esclusivo per alcuni per cui diventa l'unica voce del coro in quella sfera quindi quell'unica voce deve suonare però la stessa musica guardando gli altri quindi sempre il principio di unità economica e politica e il principio di solidarietà non può schiacciare gli altri poi se volete parleremo dei meccanismi finanziari e ne parleremo dopo però ho una curiosità ovviamente le regioni più ricche le tre regioni del nord che hanno chiesto di accelerare su questo tema hanno le possibilità economiche per fare molto e per fare di più come si concilia questo aspetto con la solidarietà rispetto alle regioni più povere questo è il punto è il vero punto perché noi possiamo immaginare due prospettive una prospettiva in cui la regione forte che prende l'autonomia differenziata e quindi prende in mano l'istruzione prende in mano la salute inizia a fare competizione con gli altri e quindi questo implica che deve avere più risorse deve avere più risorse e quindi è in grado di sostenere da sé queste risorse un po' le chiede allo Stato a discapito delle altre regioni ecco questo è il punto cioè il vincolo risolidarietà tutti verso tutti l'articolo 2 della Costituzione doveri inderogabili di solidarietà questi valgono per tutte le regioni verso tutti cioè ricordiamo è l'orchestra cioè le regioni suonano dentro l'ordinamento costituzionale dello Stato ma il direttore dell'orchestra è lo Stato questo non ce lo dobbiamo rientrare chiarissimo il professore anche l'esempio dell'orchestra insomma è abbastanza significativo chiudo l'uma alla regia abbiamo non c'è il collegamento Massimo Romano allora passiamo al presidente Santoro questo questo federalismo differenziato secondo lei parlavamo di solidarietà lo Stato l'Italia si è basata sempre sulla solidarietà tra le regioni e tra chi ha di più e chi ha di meno che può comportare per il Molise noi poc'anzi abbiamo parlato della provincia di Sergina e della sua situazione l'ottimo presidente Coia perché si sta dando a fare molto non credo che ha molto da stare tranquillo quotidianamente noi andiamo in manifestazione perché la provincia non ha alcun mezzo per poter affrontare quelli che sono i competi che invece ancora tiene e questo è quello che riguarda l'organizzazione provinciale che in questa orchestra avrebbe avrebbe dovuto avere un buon ruolo insomma le province sono state sempre una parte molto molto significativa nell'organizzazione dello Stato la possibilità della solidarietà questo era un principio che già c'era che già del quale discutevamo ogni volta che bisognava dividere distribuire il fondo sanitario di fronte ecco alla regione molise che come proporzione in rapporto agli abitanti eccetera aveva ben poca cosa valeva sempre quella possibilità di un fondo a parte e di un fondo adesso chiamiamolo pure di solidarietà che comunque superava il limite che poteva essere dato dalla popolazione ma dava una spesa ma dava altre condizioni e parliamo di un settore quello della sanità che nel bilancio della regione molise se non va l'80 qui l'80% in altre regioni più o meno è a questi livelli c'è già oggi una reale differenziazione fra le regioni alcune regioni spiegamente del sud e regioni del nord in questo settore che purtroppo comporta e porta questo pellegrinaggio quotidiano di migliaia di persone che vanno verso il nord e dei giorni scorsi la notizia anche di quello che si spendeva in qualche regione del nord che insomma non ha molta luce ora il regionalismo differenziato a mio avviso e per quello che abbiamo potuto apprendere da quello che ci viene dato dall'informazione di questi giorni perché poi si modifica è già diverso tutto quello che abbiamo appreso oggi dai giornali come atteggiamento anche dei partiti di governo di fronte a quello che era fino a due giorni fa per cui io sono anzitutto convinto che non andrà non andrà assolutamente in porto come era previsto nell'immediato diciamo così nell'immediato ma sarà una delle cose che si porterà a lungo e che genererà senz'altro grandi grandi discussioni e divisioni parlo nel senso generale quindi in un paese come il nostro dove la differenza già è sostanziale e già comporta una serie di difficoltà è difficile trovare quel sentimento a cui lei faceva accenno di solidarietà di apertura perché valgono i dati e i numeri noi già abbiamo una differenza fra le famose regioni a statuto speciale e le regioni normali che non è cosa da poco è cosa piuttosto molto 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 sensibile non siamo riusciti in 40 anni mai a modificare o allenire a diminuire quello che era la differenza perché diciamo i privilegi delle regioni a statuto speciale non c'erano più motivi iniziali che chiedero luogo alla istituzione di quelle regioni che erano di altra natura che lei ben conosce può oggi valere il principio di solidarietà barrà e in che misura noi abbiamo oggi ripreso nel mezzogiorno la fuga e di cosa prima era la fuga dell'operaio la mano d'opera diciamo la mano d'opera non qualificata neanche la fuga delle braccia la fuga dei cervelli dei cervelli di gente che va a portare dovunque in Europa e in Australia in America dovunque tutto quello che noi abbiamo investito per creare quella realtà l'università stessa di Campobasso io vorrei che lei l'università del Molise del Molise io dico questo di Campobasso perché questo è un discorso che vale la pena farlo in qualche occasione vale la pena farlo nell'occasione giusta se vale la pena facciamo una cosa facciamo tanti auguri ringraziamo per quello che ha fatto in sei anni di mandato quasi sei anni al rettore Gian Maria Palmieri che da oggi non è più rettore adesso ci sarà una votazione però in sei anni l'università del Molise è cresciuta grazie rettore prego continui ora questa realtà così come disegnata non si era posta già il tempo della commissione per l'istituzione delle regioni sotto alcuni aspetti tant'è che era prevista una diversa istituzione un diverso numero di regioni erano le tesi che si erano le 18 le 13 oggi o si torna a ragionare di una realtà regionale perché poi tutto quello che è dopo dipende dalle regioni stesse le deleghe eccetera ma va rivisto allora a questo punto il quadro delle regioni nel suo insieme e ne parleremo dopo di questo Presidente Santoro Gianluca Cefaratti qual è la posizione Vice Presidente del Consiglio Gianluca Cefaratti la sua posizione sul regionalismo differenziato ma la mia posizione è stata espressa anche nel Consiglio regionale che abbiamo tenuto la settimana scorsa un Consiglio all'unanimità tutti d'accordo contro ovviamente con un solo voto contrario con un solo voto contrario che era Aida Romagnolo esponente della Lega fino a ieri oggi però lei resta capogruppo della Lega ma è stata espulsa dalla Lega prego io sono moderatamente preoccupato Giovanni innanzitutto perché mi pare di cogliere che i cittadini ancora non hanno compiutamente nella propria mente cosa significa questo regionalismo differenziato perché forse anche in maniera semplicistica si parla alcune forze politiche parlano che non ci saranno grandi differenze invece io mi sono preoccupato anche di scrivere che cosa significa e quali sono le rivendicazioni delle regioni in particolar modo del Veneto della Lombardia e dell'Emilia Romagna perché parliamo di rivendicazioni di alcune normative che sono di legislazione concorrente significa che legiferano sia lo Stato che le regioni e di alcuni ambiti che invece sono attualmente di esclusiva competenza statale ma non sono solamente quelle di esclusiva competenza statale che ci devono preoccupare a mio giudizio sono anche le altre richieste avanzate e mi sono preoccupato anche di scriverle i rapporti internazionali con l'Unione Europea da parte delle regioni cioè le regioni autonomamente si andrebbero occupare dei rapporti internazionali non solo con l'Unione Europea è specificato anche internazionali in genere il commercio con l'estero la tutela e la sicurezza del lavoro l'istruzione il mondo delle professioni cioè ogni regione veramente farebbe ciò che ritiene più opportuno ricerca scientifica e tecnologica immaginiamo cosa succede col mondo delle università davvero quando non c'è una legislazione nazionale che delinea una legge quadro una legge cornice l'alimentazione l'ordinamento sportivo la protezione civile abbiamo avuto anche insomma esempi belli di protezione civile anche a livello regionale con il governo Iorio ma c'era una protezione civile nazionale che in qualche maniera dava le linee guida il governo del territorio cosa succede il governo del territorio davvero iniziamo a pensare che ci siano livelli di governo differenti nelle varie regioni perché quando parliamo di governo del territorio cosa significa o che le prefetture da una parte esistono da un'altra parte no insomma io sono preoccupato porti e aeroporti civili grandi rete di trasporto e navigazione una delle grandi rivendicazioni forse anche giuste tutto sommato per esempio di Izaia governatore del Veneto è quella di avere come contropartita dallo Stato la gestione delle autostrade c'è tutta la polemica che si è accesa a livello nazionale dopo il crollo del ponte di Genova sui concessionari di queste grandi la regione Veneto una delle grandi rivendicazioni è quella che vuole gestire in qualche maniera la rete autostradale con tutto ciò che comporta a livello economico immaginiamo l'ordinamento della comunicazione immaginiamo cosa può succedere produzione trasporto e distribuzione dell'energia previdenza complementare integrativa coordinamento della finanza pubblica del sistema tributario valorizzazione dei beni culturali che non è la tutela è la valorizzazione che in questo momento è comunque sottesa alle sovrintendenze in qualche maniera e infine le casse di risparmio le casse rurali le aziende di credito di carattere regionale le condizioni di credito fondale e agrarie quindi immaginiamo davvero un mondo nuovo scenari nuovi ed è immaginabile che in qualche maniera davvero ci sia un'Italia forse non a due trazioni ma a una moltiplicità di trazioni perché poi le regioni indipendentemente avrebbero voglio dire una capacità differente tant'è vero che nei preaccordi delle tre regioni ieri ha fatto un anno perché il preaccordo lo dobbiamo dire e lo dobbiamo dire anche ai telespettatori è stato fatto col governo gentiloni che in qualche maniera non è immune da colpe rispetto ad un percorso che comunque si è avviato ed è stato fatto il 28 febbraio l'anno scorso ieri ha compiuto un anno il preaccordo ricordiamo che c'è stato un referendum anche in Lombardia un anno o due anni fa per decidere sull'autonomia diceva bene il presidente Santoro francamente le forze politiche potrebbero molte forze politiche frenare rispetto ad un accordo che significherebbe davvero un'altra Italia probabilmente un'Italia spezzettata in tanti microstati probabilmente non si fa anzi sicuramente non si farebbe il bene del sud e del mezzogiorno in generale benissimo Angelo Primiani deve recuperare un po' di tempo ha parlato di meno fino adesso la posizione del Movimento 5 Stelle sulla autonomia differenziata la posizione del Movimento 5 Stelle è chiara noi non siamo contrari al regionalismo differenziato certo va visto bene come attuarlo questo regionalismo sicuramente il tema delle regioni del ruolo delle regioni è stato sempre dibattuto nella storia della Repubblica lo dicevano prima ampiamente già in fase di assemblea costituente se ne dibatteva io mi sono andato a ricercare un po' di dati e vedevo che già Francesco Saverio Nitti Benedetto Croce Nenni Togliatti avevano manifestato preoccupazioni sul ruolo e sull'autonomia delle regioni quindi è un tema che di cui se ne discute sin dagli albori viene da lontano viene da lontano di certo non nasce nell'ultimo nell'ultimo periodo e in quest'ultimo governo diceva bene prima Gianluca Cefaratti che questo percorso è iniziato con il governo Gentiloni ma secondo me è iniziato con la riforma del titolo quinto quindi è iniziato nel 2001 nel 2001 è stato riformato il titolo quinto e quindi sono state previste non ricordo se era governo D'Alema o già governo Berlusconi se non ricordo male era D'Alema era la fine D'Alema sì 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 fu D'Alema tre voti esatto questo va sottolineato riforma costituzionale passata con soli quattro voti di maggioranza in Parlamento e ratificata successivamente con il referendum popolare al quale parteciparono solo il 34% degli aventi diritti al voto quindi noi abbiamo introdotto una riforma di portata storica con solo i quattro voti di maggioranza e con ratificandola con il 34% dei voti degli italiani quindi insomma è un discorso che va collocato in uno scenario ben più ampio di certo adesso a valle di quella riforma ci troviamo a ragionare su come attuarlo questo titolo quinto partiamo da una considerazione sicuramente vanno rispettate le rivendicazioni delle regioni del nord c'è stato un referendum popolare il Movimento 5 Stelle fa della democrazia diretta una delle bandiere principali uno dei principi principali quindi non possiamo non ascoltare le rivendicazioni che vengono da quelle popolazioni ascoltare sì ma da qui ad attuarle così come vengono da quei territori ce ne passa il Movimento 5 Stelle deve essere chiaro sarà di certo la vera tutela per le regioni del sud nell'ambito del governo io proprio l'altro giorno ne parlavo con il sottosegretario agli affari regionali Stefano Buffagni infatti all'indomani della votazione in consiglio regionale io sono stato proprio da lui per interloquire per portare le preoccupazioni che avevamo noi del Movimento 5 Stelle ma l'intera regione e devo dire che sono state recepite sono state recepite e abbiamo ricevuto anche delle rassicurazioni come le dicevo in apertura sarà un processo lungo sarà un processo lungo che deve coinvolgere tutti i cittadini perché quando si lo ripeto quando si interviene su principi costituzionali il dibattito deve essere ampio e trasparente non si può intervenire così in maniera immediata perché poi vediamo le conseguenze quali sono state prima parlavamo della legge del Rio e quindi sicuramente il Movimento 5 Stelle sarà la vera tutela per le regioni del mezzogiorno poi da qui a dire che un percorso si deve aprire si deve si può aprire e deve essere dibattuto nella sede opportuna perché secondo me su alcune tematiche ci può essere una maggiore forma di autonomia ma su alcune non su tutte sicuramente non ci può essere sull'istruzione che deve essere unica e generale in tutta la nazione sulla valorizzazione dei beni culturali beh forse lì qualche spiraglio qualche margine di trattativa ci può essere noi in questa regione sono anni che abbiamo una sovrintendenza una reggenza nella sovrintendenza non abbiamo un sovrintendente titolare quindi magari forse un'autonomia potrebbe darci quella titolarità che fino ad oggi ci è stata negata quindi secondo me su alcune tematiche ci si può ragionare e ben venga il dibattito ma io capisco il suo ragionamento però nel momento in cui questa autonomia la vai a gestire come regione se hai le risorse finanziarie perché hai una realtà produttiva pagano le tasse hai i redditi e te la puoi gestire nel momento in cui sei in una realtà povera come povero è il Molise come fai a gestire quella materia io capisco che può essere anche un elemento un tesoretto gestire bene i beni culturali nel Molise però non hai le risorse assolutamente non è quello che le risorse torniamo sempre alla Costituzione perché la Costituzione ci dà tutte le risposte prima il professore Cioffi citava l'articolo 5 della Costituzione la Repubblica è unica e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali bene partiamo da questo principio che è uno dei principi fondamentali della Repubblica poi arriviamo anche al titolo quinto della Costituzione titolo quinto che ci dice ben vengano forme di autonomie fermo restando l'unitarietà dello Stato e i livelli minimi per tutti per tutte quante le regioni quindi secondo me il vero tema non è l'autonomia differenziata il vero tema è come definire i livelli minimi delle prestazioni i livelli minimi di assistenza da garantire a tutti da garantire a tutti quindi prima di arrivare all'autonomia c'è tutto un lavoro di definizione dei livelli minimi essenziali da garantire a tutti i cittadini italiani siano essi siciliani molisani o di Bolzano però a Roma avete Matteo Salvini che spinge su questa storia ma guardi su questo noi siamo l'alleato fedele di governo sicuramente alleato noi abbiamo un contratto che ci sta guidando in questo in questo governo e anche nel contratto abbiamo riportato quelli che sono un po' i principi costituzionali perché nel contratto se in un articolo prevediamo di portare a conclusione questo percorso di autonomia aperto appunto dai governi precedenti dall'altro in un altro articolo sanciamo in maniera chiara l'unitarietà dello Stato e la definizione dei costi standard e dei livelli minimi per tutta la nazione Benissimo Presidente Eorio la sua posizione su questo regionalismo differenziato che potrebbe produrre per il Molise in negativo Il regionalismo differenziato oltre ad essere una ipotesi costituzionalmente prevista come abbiamo stato già sottolineato non è un termine assoluto esistono tanti regionalismi differenziati e le differenziazioni sono graduabili a seconda delle situazioni che vengono richieste dalle regioni quello che a me sembra del tutto intoccabile soprattutto l'aspetto fiscale l'aspetto distributivo del gettito del gettito fiscale che a mio giudizio qui si entreremmo in conflitto con la Costituzione a proposito dell'unitarietà della nazione del diritto ai livelli essenziali di assistenza di assistenza e di prestazioni su tutto il territorio nazionale anche ai livelli dell'istruzione perché alcuni tipi di autonomie possono essere sicuramente meglio gestite dalle regioni si è fatto giustamente l'esempio della valorizzazione dei beni culturali io questa ipotesi l'idea di tenere qualcuno estraneo che magari ha letto solo sui libri le nostre realtà territoriali che ti venga a dire questo va bene e questo no come le sovrintendenze che spesso hanno dato dei risultati devo dire pessimi dal punto di vista della valorizzazione forse la tutela sì ma tutelare è facile poi insomma credo che valorizzarle sarebbe una ricchezza per la regione quindi io credo che le regioni farebbero molto meglio dello Stato c'è l'ambiente ci sono altri aspetti anche sulla rappresentanza all'estero io credo che se una regione non è che si può intendere una politica estera regionale ma che ci sia un rapporto con il mondo anche le regioni hanno secondo me possono lavorare bene per i rapporti con i molisani con gli italiani con gli italiani nel mondo anche qualche aspetto commerciale particolare qui il regionalismo va visto in termini positivi anche perché io sono dell'idea che il centralismo sia stato deleterio per questo paese non ha dato grossi risultati io sono del parere che le regioni sono stato un elemento fortemente innovativa per la crescita economica del nostro paese anche se sono state rappresentate sempre come elemento di spreco ma quando si parla di promozione di un territorio o di un prodotto e ci si rifà solo alle linee nazionali di comunicazione se le grandi reti televisive parlano solo del tartufo di Alba se si visita solo Firenze Milano Venezia se gli expo si fanno a Milano e non altrove voglio dire quest'idea delle regioni è anche un'idea che consente ai territori stessi di autodeterminarsi e di spingere la propria economia e credo che sia un valore aggiunto non un valore negato poi è chiaro se si fa l'esempio del turismo come lo si fa spesso anche qui nelle tv nazionali nei dibattiti nazionali il Molise è andato in Cina io credo che quando ci va lo Stato non è che porta grandi risultati per il Molise quindi se ci va anche il Molise e porta dei risultati sarebbe preferibile da questo punto di vista io sono stato sempre un regionalista convinto e il regionalismo differenziato andrebbe valutato nel caso specifico ha fatto bene Gianluca prima a citare tutte le possibili autonomie richieste beh lì ce ne sono moltissime molte che costano e quelle non possono essere sicuramente sicuramente anche perché quei costi poi vengono sottratti alla solidarietà generale e quindi credo che da questo punto di vista anche il dibattito che si sta svolgendo in questi giorni sia tranquillizzante anche io penso però sia anche utile fare questi dibattiti cercare di comunicare anche ai cittadini di che cosa si sta parlando perché i slogan che oggi regolamentano la politica e tutto il costume e quant'altro spesso sintetizzano argomenti che non trasmettono la verità ecco perché io credo che approfondire le cose significa anche fare una buona politica cercare di fare una buona politica e di interessare i cittadini e far vedere ai cittadini che non è la stessa cosa se si decide una cosa o l'altra perché tanto alla fine è sempre lo stesso no le scelte politiche sono importanti e incidono anche sulla vita sulla vita quotidiana lei nel corso del dibattito se non vederà dei consigli regionali su questo tema ha richiamato una norma una legge che esiste mai applicata vogliamo spiegarla meglio sì io vado molto soddisfatto di un episodio che cioè di un episodio di un risultato che abbiamo raggiunto proprio nella regolamentazione del fondo di solidarietà quel fondo che noi cerchiamo di difendere a tutti i costi introducendo un elemento di specialità si parlava di regioni speciali ecco un piccolo elemento di specialità per il Molise che è la regione più piccola d'Italia nel senso che nel regionalismo nel federalismo fiscale che fu approvato iniziato da Prodi approvato da Berlusconi cioè introdussi io ricordo un particolare Presidente le chiedo scusa era Presidente della regione mi pare veneziale o se non lei il Molise venne scelta come regione sperimentale per il federalismo fiscale in quel periodo sì ma quando si discuteva di federalismo questo è stato il federalismo fiscale venuto dopo venuto dopo io feci introdurre il discorso che dopo il fondo di perequazione in base ai costi standard come si diceva prima bisognava aggiungere un altro fondo per le piccole regioni che non raggiungono quell'economia di scala per la gestione dei servizi pubblici perché proprio perché sono gli abitanti sono inferiori insomma quindi il bacino demografico non consente una vera e propria autonomia c'è bisogno di un sostegno particolare questa è legge dello Stato ma che lo Stato poi insomma devo dire in questi ultimi anni sarebbe dimenticata e adesso è tornata di moda con questa questione del federalismo e del regionalismo differenziato benissimo capita sempre purtroppo al professor Cioffi ma dobbiamo fermarci pubblicità ripartiremo dal professore autonomia istituzionale e regionalismo differenziato ultima parte di Moby Dick all'inizio abbiamo ricordato anche l'anniversario il 49esimo che cade dopo domani 3 marzo della nascita della provincia di Isernia con il professore Cioffi stiamo affrontando con tutti gli altri il tema del regionalismo differenziato professore a suo giudizio il punto critico del regionalismo o i punti critici quali sono? ma i punti critici sono ce n'è uno in prima linea e un altro sullo sfondo vado subito al più al più importante chi paga l'autonomia differenziata questo è il punto perché chi paga chi paga ora teniamo ragionando nella logica del diritto costituzionale l'autonomia nell'articolo 119 per essere molto precisi si prevede che l'autonomia delle regioni ordinarie possa essere sostenuta da una compartecipazione ai tributi e al bilancio dello Stato ora io leggo nelle intese dell'autonomia differenziata che questa autonomia così forte e molto forte la paga lo Stato per essere chiari perché si prevede la compartecipazione ai tributi dello Stato maturati sul territorio regionale ma sono ma è bilancio dello Stato ora noi dobbiamo essere molto attenti a questo perché l'autonomia in termini concettuali suppone una grande maturità quindi se io me ne vado di casa non posso chiedere i soldi a mamma e papà questo è il concetto da un punto di vista proprio della logica del diritto costituzionale io ho molti dubbi che un'autonomia differenziata che sfiora l'autonomia speciale a questi livelli possa essere pagata dal bilancio dello Stato cioè dal 119 che invece riguarda le autonomie ordinarie questo è il primo punto ed è un grosso vizio concettuale questo delle preintese cioè pensare alla logica della compartecipazione al gettito statale cioè al criterio del fabbisogno standard che è il criterio dello Stato e soprattutto è bilancio dello Stato che paga questa fuga in avanti delle regioni può piacere o non piacere ma non mi piace il fatto che la paghi lo Stato sinceramente e quindi lancio un ballon di sé qui a tutti io ho ascoltato con attenzione tutte le opinioni di questi amici e politici che sono tutte lungimiranti e tutte fondate anche su una notevole esperienza storica e il punto è questo il 119 prevede anche che le regioni abbiano tributi propri che non sono stati mai istituiti e allora la domanda è noi ce l'abbiamo uno ed è l'aumento IRA per effetto del rientro dal deficit sanitario ma sono cose sono dettagli sono dettagli però incidono nelle tasche dei cittadini e comunque riproducono i tributi dello Stato ma il vero tributo regionale che è una cosa nuova per capirci quindi se la regione vuole fare la fuga in avanti e fare la grande differenza sul regionalismo perché non lo paga da sé con tributi propri nessuna regione lo fa perché no questo è il primo punto poi il secondo punto perdonatemi ruvo altri due minuti che è quello del problema grande è il problema unità solidarietà unità indivisibilità ora l'unità la Repubblica una è indivisibile è una formula antichissima ancora prima la inventarono le Costituzioni di Giacobbine ma soprattutto la suggerì Francesco Crispi Francesco Crispi era un uomo di Stato Crispi era uno statalista convinto ma Crispi era siciliano e quindi aveva già in testa l'idea dell'autonomia cosa voglio dire che aveva in testa quei due termini riducibili dello Stato e dell'autonomia la Costituzione dice l'autonomia ha le sue esigenze non quelle degli enti locali le sue esigenze e quindi quali sono le esigenze i veri fattori non quello di essere competitivi e più ricchi Regione Veneto nove decimi dei tributi dello Stato sul territorio nazionale vorrebbe trattenere l'idea dell'autonomia nella Costituzione non è quella del più forte del più competitivo è quella della interdipendenza è quella del suonare tutti insieme quindi il più virtuoso il più autonomo il più maturo è quello che fa più servizi il più bravo è quello che soddisfa i cittadini dando più servizi dando più solidarietà e dando anche a quelli che stanno intorno perché l'idea è la solidarietà autonomia come interdipendenza è la musica che facciamo insieme è l'armonia questa è la logica costituzionale a mio avviso molto chiaro chiarissimo grazie professore abbiamo in linea il presidente della provincia di Campobasso Antonio Battista presidente buonasera Giovanni buonasera buonasera a te agli illustri ospiti e preparatissimi soprattutto e a chi ci ascolta buonasera stiamo parlando di regionalismo differenziato ecco la posizione di Antonio Battista presidente della provincia nonché sindaco di Campobasso qual è? guardate intanto io penso che in Italia ci sia bisogno di una riorganizzazione istituzionale di vedere un po' quelle funzioni anche se si vuole quelle dei comuni sicuramente riordinare quelle delle province distrutte dalla del Rio e probabilmente anche le regioni devono essere adeguate ai nuovi bisogni dei territori ecco stante questa costatazione questa che può essere una mia verità ragionare sul regionalismo differenziato è una vera bestemmia io non ho preoccupazione a dirlo a dichiararlo del resto l'ho fatto in occasione dell'avvenuta del presidente Conte a Campobasso in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Unimol ma anche insieme al presidente Coia abbiamo fatto dei documenti che poi sono stati anche ascoltati a livello nazionale in modo particolare dal Lupi ed è la stessa cosa stiamo parlando anche presso presso l'Anci intanto parte male perché ogni regione chiede un numero di funzioni diverse ma a parte questo e a prescindere da questo sarà un vero dramma secondo me verrà messa in discussione la stessa unità nazionale quindi non può che essere un atteggiamento pericoloso da parte di quelle regioni che propugnano e sostengono questo tipo di riorganizzazione oltre che quelle forze politiche che sostengono voglio sottolineare come in alcune regioni sono movimenti molto trasversali che vengono sostenute da diverse forze politiche ma insomma il movimento che si è creato in Italia voglio sperare che basti a bloccare ogni altra iniziativa Ecco ma secondo lei quali sarebbero gli effetti più negativi per una regione come il Molise di cosa si preoccupa sostanzialmente? Ma intanto non è solo il Molise intanto c'è una marcia diversa tra alcune regioni ed altre e il Molise ha storicamente insieme a un altro gruppo di regioni una marcia più bassa nel procedere verso i giorni futuri e quindi c'è questo tipo di situazione si rimette in discussione intanto il solidarismo che è inserito anche all'interno della nostra Costituzione darsi una mano nei momenti di difficoltà ma va da sé che la spesa sicuramente sarebbe l'appannaggio di queste regioni che sono più forti anche economicamente oltre che fiscalmente a prescindere dalle chiacchiere che poi si dicono che comunque ci sarebbe una pereguazione a favore delle regioni più debole sono chiacchiere che poi si andranno a realizzare in modo diverso quindi ci sarebbe una capacità di spesa decisamente inferiore e recuperare il gap che c'è nei confronti degli altri territori sarà complicato se non addirittura impossibile Benissimo grazie del suo contributo Presidente buona serata Giovanni buona serata a te complimenti ancora Grazie Presidente Santoro ricolleghiamoci un attimo a quello che diceva il Professor Cioffi le regioni più virtuose sono quelle che danno servizi adeguati ai propri cittadini anche introducendo una tassazione aggiuntiva ecco secondo lei oggi parliamo di oggi c'è un governo regionale di oggi oppure degli ultimi anni secondo lei questa politica riesce a dare servizi adeguati ai cittadini? Noi dobbiamo partire da un principio che è quella della possibilità autonoma finanziaria che ha ogni regione a parte quello che viene poi dato o finanziato dallo Stato il Professor ricorderà bene che quando si discusse la istituzione delle regioni e si parlò del Molise grandi personaggi Sturzo Sturzo De Gasperi Togliatti ed altri rimasero un poco tutti tutti fermi insomma tant'è che non la inclusero fra le altre regioni e Sturzo debba dire guardate che una regione povera povera che non ha la possibilità di rendersi già allora il termine autonoma dal punto di vista finanziario sarà una regione pezzente questo è un termine che lei avrà trovato leggendo gli atti della commissione cioè aveva previsto tutto praticamente sarà una regione pezzente quindi non si arrivò alla istituzione della regione a pezzente serva del politico di turno che dovrà finanziarla queste sono parole di Luigi Sturzo ora non è che è cambiato qualcosa per noi direi noi molisani dovremmo allarmarci e non poco di fronte a una realtà che si verifichi una cosa del genere la provincia di Segno oramai è una cosa della quale discuteremo così più per fatto accademico la regione molise con la sua realtà con i meno 300.000 abitanti perché l'ultimo censimento ci ha dato 304 o 305 ok cioè il numero di abitanti che a Milano o a Roma eleggono un consigliere regionale uno ora la regione molise in queste situazioni pur avendo peculiarità incredibile io l'ho difesa l'ho divulgata dovunque ho inventato il turismo di ritorno lo inventammo a New York le parole degli anni 80 e così tanto per rispondere anche a Michele che diceva la regione può e deve all'estero portare la sua peculiarità le sue capacità siamo d'accordo ma ci sono limiti forme condizioni norme diverse perché non si può accettare che alla abit di Milano io ricordo quando ci siamo andati nell'82 noi avevamo disponibili non so allora 3 milioni di lire 3 milioni di lire di lire parlo di euro e la regione Lombardia aveva 150 milioni insomma faccio un esempio molto elementare però questa è la realtà una regione Pezzelli teniamo presente ricordiamoci che dei 300 mila abitanti di cui parliamo che sono quelli secondo la statistica 305 va bene oltre 80 mila sono residenti nel Molise ma non sono nel Molise sono o all'estero o in altre regioni d'Italia 82 mila il che significa che noi siamo una regione di 230 240 mila abitanti partiamo da questo poi facciamo tutti gli altri discorsi la solidarietà io sono stato presidente della convenienza di Stato e Regione e quando ho chiesto la solidarietà sorgono in tutti in tutti i rappresentanti altri motivi altri condizionamenti altre sollecitazioni altre condizioni per cui la solidarietà dettata nella nostra Costituzione trova poca accettazione o quando non è obbligatoria va bene non viene neanche discussa molto spesso grazie anche alla capacità dei politici dei rappresentanti di turno si riesce a trovare io una volta il bilancio della sanità riuscì a mi pare che eravamo nell'87 88 riuscimmo a portarla avanti grazie alla solidarietà che la regione campania e rinunciò anche l'anno scorso in Molise ha ricevuto solidarietà sulla sanità per 60 milioni ma quale solidarietà troviamo di fronte ad una regione statuta speciale la Sicilia aveva chiesto addirittura che voleva la stelluccia degli Stati Uniti sulla propria bandiera perché voleva sentirsi non italiana non in questo contesto che allora nell'immediato dopo guerra vedeva contesto di fame e di miseria le belle cose che noi spesso annunciamo scriviamo vogliamo desideriamo devono trovare fondamento nella realtà nelle condizioni effettive il Molise è questo il Molise è una regione nella quale abbiamo creduto e molto chi vi parla è stato segretario della commissione era presidente della Pena oggi dato i comuni del Molise tutti per ottenere le delibere che dovevamo portare a Roma ed era c'era un entusiasmo incredibile come ci fu per la provincia di Serna perché si pensava ad uno Stato che avesse condizioni forme atteggiamento diverso nello stesso tempo in cui noi andavamo in giro perché scadevano i termini previsti dall'undicesima norma transitoria quindi noi eravamo là con quest'ansia avevamo ore gli altri giravano per fermarci per fermarci per tornare alla vecchia addizione delle regioni che avevano previsti i membri della commissione e che oggi purtroppo forse dovremmo ripercorrere grazie presidente Santoro Cefaratti mi collego un attimo alle osservazioni che faceva Enrico Santoro con una domanda che può apparire provocatoria però ognuno di voi poi risponderà come ritiene per fronteggiare il federalismo differenziato il regionalismo differenziato è pensabile di rivedere l'autonomia delle regioni è pensabile alle macroregioni è pensabile a una perdita dell'autonomia della regione molise bella domanda anche una domanda a cui forse dare una risposta è assolutamente difficile perché viviamo la difficoltà che c'è stato chi ha lottato per creare in qualche maniera questa regione e quindi in qualche maniera se dovessimo essere noi in qualche modo a introdurre questo elemento per le macroregioni a fare i funerali diciamo così esatto nella regione e ne perderemo anche come abbiamo visto nel recente passato in termini di occupazione perché la regione significa che alcuni presidi sul territorio che oggi esistono perché siamo regione inevitabilmente si perderebbero e quindi avremo una perdita occupazionale che rischierebbe di impoverire ulteriormente questa regione però d'altro canto credo che il problema dello spopolamento non solo del Molise ricordiamoci è un problema che riguarda le aree interne in generale nella propria complessità è un problema a cui non ci possiamo in qualche maniera sottrarre ma è un problema a mio giudizio al quale trovare delle soluzioni francamente non è semplice vengono chieste delle soluzioni alla politica mi sono più volte ci siamo interrogati sulla tematica e credo che non esistano delle soluzioni nell'immediato tant'è vero che i dati sviluppati un po' da tutti dalla Svimez dall'Istat prevedono un ulteriore calo demografico sensibilissimo addirittura fino al 2050 è chiaro che probabilmente questo calo previsto dall'Istat e da una serie di indicatori probabilmente non tengono conto di altri fenomeni che potrebbero riguardarci e che probabilmente ci hanno riguardato e non so in che maniera ci riguarderanno nel prossimo futuro l'immigrazione 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 paradossalmente potrebbe far sì che le popolazioni del mezzogiorno e anche le nostre popolazioni potrebbero trovare nuova linfa in termini di nascite basti pensare che fino a qualche tempo fa adesso i dati sono in netto calo c'erano in Molise 3.300 migranti che potevano e possono costituire anche un elemento innovativo rispetto ai dati statistici favorevoli questi elementi non favorevoli il dibattito è ampio è aperto è aperto è aperto anche lì non dobbiamo creare voglio dire paure da un lato né tanto ottimismo dall'altro lato perché poi rimangono i problemi di carattere macroeconomico e di occupazione e di gente che comunque è in cerca di occupazione da un lato c'è chi rivendica prima degli italiani dall'altro c'è chi rivendica solidarietà stiamo nel guado io credo che sono queste le tematiche su cui dovremmo in qualche modo confrontarci senza perdere di vista quella situazione a cui facevi c'è noto prima che comunque i dati per quanto riguarda i risparmi dei molisani dal 2008 al 2018 sono incrementati in maniera del tutto evidente probabilmente noi abbiamo un dovere quello di ricreare la fiducia nei molisani esatto una fiducia che si è persa fondamentale e di creare le precondizioni per lo sviluppo dell'attività produttiva esatto cioè il molisano deve credere nelle proprie potenzialità e perdere quella caratteristica dell'essere assistito in qualche maniera dallo Stato e da norme dello Stato perché le risorse ci sono lo dicevo prima a microfoni spenti dal 2008 al 2018 i molisani hanno risparmiato 3 miliardi di euro ripeto la cifra 3 miliardi perché sembra quasi impossibile ci sono 3 miliardi che i molisani hanno risparmiato e sono fermi nelle banche e che se investiti nella giusta maniera con il contributo positivo della politica potrebbero ridare l'infa a questo territorio grazie a Gianluca Cefaratti Angelo Primiani la posizione la sua e del Movimento 5 Stelle sull'autonomia del Molise e sull'eventuale macro regione innanzitutto rassicuriamo i telespettatori che ci ascolta che il regionalismo sarà un processo lungo e immediato questo l'aveva già detto prima e garantito nel giro precedente prego ci tenevo a precisarlo anche per ricollegarmi a quello che diceva il professore Cioffi che parlava di tributi locali perché noi qui abbiamo parlato semplicemente delle entrate di queste tre regioni non abbiamo detto o meglio l'abbiamo detto in passant che le tre regioni contribuiscono per circa il 50% del PIL nazionale e questo è un dato però se è vero che le tre regioni Veneto, Lombardia e Emilia Romagna producono il 50% del PIL nazionale in un caso estremo di autonomia dovrebbero anche farsi carico del 50% del debito pubblico italiano lasciatemi fare questa provocazione è una bella provocazione è una provocazione che 2300 miliardi di debito pubblico questo penso che scongiurerà qualsiasi velleità autonomista da parte delle regioni del nord per quanto riguarda noi c'è un tema c'è un tema noi non siamo competitivi abbiamo parlato di regione piccola regione piccola non competitiva di spopolamento siamo 300 mila ogni anno perdiamo circa 300 mila abitanti 300 mila residenti voi per decessi voi per immigrazione no 300 mila residenti 3 mila 3 mila chiedo scusa su 300 mila ne perdiamo circa 3 mila 3 mila l'anno dobbiamo dibattere su due grossi temi nel futuro macro regioni secondo me se da un lato possono magari mettere a rischio quei servizi garantiti appunto dall'istituzione regione dall'altro ne possono favorire altri lei parlava di precondizioni per lo sviluppo economico io sono convinto che in un'ottica di macro regioni si possano migliorare queste precondizioni partendo dalle infrastrutture noi siamo troppo piccoli per avere infrastrutture strategiche magari in un'ottica condivisa insieme ad altre regioni potremmo finalmente immaginare quello sviluppo infrastrutturale che sino ad oggi ci è stato negato quindi magari può essere un aspicio per ragionare su questo tema e su un'ottica macro regionale l'altro tema invece lo ritengo di carattere comunitario di carattere europeo perché non dobbiamo discutere di federalismo nazionale secondo me è opportuno di discutere di federalismo europeo e lì la vera partita che si dovrà giocare nei prossimi anni e beh questo lo capiremo dopo le elezioni europee del 27 maggio devo dire prima di passare a Michele Iorio che Massimo Romano ci ha contattato in privato in regia dicendo che sta su un treno si scusa ma non può intervenire così come volevo dire che con noi questa sera doveva essere l'amico docente costituzionalista dell'Università di Molise insieme ai nostri ospiti Michele della Morte ma è a Londra beato lui e quindi ci sarà una delle prossime volte Presidente Iorio lei è stato un convinto assertore dell'autonomia regionale quindi questa mia provocazione come la vede si deve in Molise deve stare autonomo o bisogna puntare a una macro regione secondo me mi verrebbe voglia di citare qualche proverbio che non è il caso di dire in televisione insomma a quest'ora si potrebbe dire comunque immaginate che il Molise entra in una macro in una macro regione diventando la periferia di questa macro regione e poi naturalmente periferia dello Stato come già è oggi secondo me l'autonomia è stata una conquista importantissima ha un valore eccezionale bisogna lavorare perché questa autonomia ha frutti e questa è la questione facevo prima l'esempio della legge ottenuta sul solidarismo differenziato a favore del Molise perché non l'abbiamo fatta rispettare quella è legge ma non è ancora rispettata dico un esempio c'è Zaia chiedere concessione autostradale non la teniamo ma abbiamo mandato i soldi indietro alla concessione in liquidazione voglio dire autonomia significa saper anche capire che c'è bisogno di essere un tantino più attenti alle scelte che fa pure la politica perché mentre in Lombardia si possono permettere di essere cosiddetti virtuosi perché hanno navigano nei soldi e poi ripeto però l'Expo l'abbiamo pagata pure noi e le pede montane le paghiamo pure noi la TAV la paghiamo pure noi e poi vabbè noi però arriva qualcosa la mandiamo indietro insomma come vuoi dire no grazie l'acqua che produciamo l'acqua la diamo a noi basterebbe per il Molise basterebbe avere le sorgenti del Voltuno e l'uso del Voltuno sì sì ma anche il Bifer basterebbe quello il Molise avrebbe coperto quindi credo che credo che c'è bisogno io trovo trovo stucchevole l'idea che si possa programmare o pensare o propugnare una macro regione è una cosa fuori dal fuori dal mondo che poi ci potrà essere la necessità che lo Stato riveda la politica territoriale del suo complesso e fa tre macro regioni beh allora a quel punto cambiano ma noi buttiamo a mare un'autonomia perché ci piangemo addosso e andiamo a essere più poveri di prima mi sembra proprio un assurdo è vero che questa questione chiudo subito è determinata molto spesso dall'umore del popolo è l'umore del popolo molisano se gli chiedi oggi se la regione deve perdere l'autonomia ti dice di sì ti applaude basta perché probabilmente non ha più fiducia bisogna ridare chi lo diceva bisogna ridare fiducia ai molisani anche perché non devono risparmiare devono investire le imprese molisane gli investitori molisani insomma io credo che bisogna guardare in prospettiva con quel tanto di ottimismo che consente di fare una buona politica professor Cioffi sulle macro regioni qual è la sua idea? ma io qui mi esprimo non come studioso ma come cittadino la mia impressione da osservatore è che il Molise non è l'Abruzzo e non è la Puglia della parte nord o della parte sud ha un suo carattere inconfondibile la macro regione tradisce le esigenze dell'autonomia le tradisce in un punto l'autonomia deve essere all'altezza del suo sviluppo è una scommessa io credo che il Molise possa e debba essere all'altezza del suo futuro e delle sue promesse però si deve svegliare benissimo 30 secondi a testa siamo fuori tempo Enrico Santoro come chiudiamo questa puntata 30 secondi ma io direi chiudiamola anzitutto con ridare ai Molise dopo quello nonostante l'analisi che ognuno di noi ha fatto ai Molise la certezza che tutti tutti quelli che hanno responsabilità saranno impegnati a fare in modo che il Molise abbia vita e abbia una vita possibile però ci vuole questa certezza e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti la certezza di un futuro Gianluca Cervaratti 30 secondi ma io sono fiducioso sono fiducioso dobbiamo trasmettere e trasfondere questa fiducia nei nostri cittadini chi viene in Molise il professor Cioffi magari è l'esempio vivente viene in Molise sta bene si si è paradossale chi viene in Molise si innamora del Molise e noi molisiani siamo i primi detrattori dobbiamo cambiare completamente in diritto bisogna dare fiducia ai molisani come ha detto giustamente lei Angelo Primiani dare fiducia ai molisani e darla attraverso una politica più efficiente capace di gestire le risorse di spenderle bene e di impattare fortemente sul territorio solo così riusciamo a combattere queste derive seccensioniste e autonomiste grazie io ringrazio di cuore gli ospiti abbiamo fatto questa sera abbiamo messo in onda una trasmissione io oserei dire didattica informativa perché sono temi importanti che secondo noi i molisani devono conoscere fino in fondo e questa sera l'hanno fatto bene i nostri ospiti ringrazio tutti loro ringrazio in particolare il professor Cioffi che è venuto appositamente da Roma per partecipare a questa puntata di Moby Dick ringrazio ovviamente voi siete sempre tanti grazie di cuore ringrazio la squadra tecnica perfetta anche stasera come sempre Donato Mignogna in regia Daniele Ricciuto e Fabio Boscarini passo la linea subito a Manuela Petescia per il Tg delle 23 grazie a tutti se lo vorrete ci rivedremo ancora venerdì prossimo alla stessa ora buonanotte buonanotte